Hai presente quella sensazione che ti attanaglia le viscere? Quella che ti fa agognare, quella che ti stringe il cuore Ti fa venire le farfalline nello stomaco, te lo rivolta Senti come pugni nella pancia, anzi Il tuo cervello è in tilt, non capisci più niente Incominci a irrigidirti Hai presente? Quella sensazione che ad alcuni fa bloccare le gambe, ad altri li fa cascare Ad altri ancora, li fa immobilizzare Ti rende incapace di dire qualcosa Ogni parola ti sembra inadatta Hai presente? Quella sensazione che non riesci a classificare Quella che ti fa sembrare tutto così surreale Quella sensazione che ti fa chiedere Perché a me? Perché adesso? Non riesci più a reagire Vorresti fare tutto Ma non puoi fare niente Il tuo corpo è come bloccato Molti credono che sia l'amore E per te? Per te? Cos'è? Cos'è? Cos'è?